Siamo con Asia e Alessio, due dei piccoli, giovani, partecipanti a Sport Giocaavventura di quest'anno a Follonica. Asia, com'è andata questa esperienza? Cosa avete fatto in quest'estate? Ci siamo divertiti, abbiamo giocato tanto. Alessio, cosa ti è piaciuto di più fare in spiaggia quest'anno? Giocare a pallone, fare le partite, cioè stare anche con gli amici. Asia, ti abbiamo fra l'altro visto impegnata nella danza e guidato tutti i tuoi amici. È una cosa che ti piace? Sì, sì. Pensi che proseguirai questa esperienza anche nelle prossime estate? Alessio, tu invece, che sport pratichi e cosa hai voluto fare in quest'estate? Allora, io pratico il ballo, hip hop per chidenza, e in quest'estate vorrei continuare. Cioè, vorrei ritornare al campo estivo e continuare questa esperienza con gli amici. Grazie. Grazie. Grazie.